Salve a tutti, sono Gianmarco Lavagna Bianchi, studente rappresentante della classe terza scientifico dell'Istituto Giuseppe Garibaldi. Innanzitutto volevo ringraziarvi a tutti per essere venuti qui e volevo fare un ringraziamento speciale in primis alla mia classe che come me ha seguito questo percorso grazie all'alternanza scuola lavoro e in più volevo ringraziare Emanuele Ario e Daniele Abbalata per aver diretto e aiutato la nostra classe durante questo progetto. Volevo anche ringraziare l'ente Parco e la professoressa Bulciolu che hanno organizzato questa bellissima attività da cui abbiamo imparato davvero molto soprattutto a livello morale. Infatti abbiamo realmente capito che cosa sta succedendo nei nostri mari, che cosa possiamo fare. La nostra generazione, parlo al nome della nostra generazione che viene sempre molto criticata e sottovalutata ma vi posso garantire che ci impegneremo al massimo per aiutare in questo grande tema che è quello dell'inquinamento e vi prometto che siamo tutti propensi a salvaguardare l'ambiente non solo di la Maddalena ma di tutto il mondo.